Il Master in sviluppo creativo e gestione delle attività culturali si rivolge a professionalità che ancora prevalentemente non hanno un nome, perché sono il risultato di quella grande espansione degli ultimi anni dei consumi culturali. Noi abbiamo scelto per questo lavoro un partner di grande rilievo, che è Scuola Holden, con la quale collaboriamo per metà dello sviluppo del Master. Cinque docenti appartengono a Ca' Foscari, cinque docenti appartengono a Scuola Holden. Si tratta di persone che hanno un'esperienza professionale sul campo di storytelling, di regia teatrale, di produzioni televisive e con questo noi pensiamo di riuscire a sviluppare un pacchetto importante di competenze che non sono soltanto in grado di trasmettere, ma soprattutto di coinvolgere l'interesse delle persone che frequentano il Master. Questo naturalmente significa che anche l'attività di stage ha una sua rilevantissima importanza.